Tuo lavoro ti aiuta anche a definirti, non è che fai il tuo lavoro solo per quello, però è anche una ricerca continua della propria definizione e non riesco a trovare, almeno io non vedo tanto un percorso lineare o comunque che si instaura in un mondo diciamo così che ha una traccia orizzontale e una traccia verticale, mi ritrovo di più in un percorso a salti, a balzelli, a salti, che costruiscono un disegno che puoi vedere forse dall'alto, che io mi sto sforzando di vedere dall'alto, ma che in prospettiva normale, diciamo così costruito sulle assi cartesiane forse fai fatica a individuarlo, mentre invece forse con una visione più tridimensionale forse si riesce ad individuare un percorso. Non capita a molte persone di essere vicini di casa di Jean-Michel Basquiat quando ancora nessuno sa chi sia Jean-Michel Basquiat. Con grande ironia Renato De Maria sostiene che nessuno sappia chi sia neanche lui e che tutti lo riconoscano soprattutto come il marito di Isabella Ferrari. In questa intervista scopriremo che nella sua biografia c'è molto, molto di più. Io sono Malcom Pagani e questo è Dicono di te, un podcast prodotto da Cora Media e Tender Stories. Per non perdere l'episodio di questa serie, clicca il tasto Segui e soprattutto attiva la campanellina. E se ti va, mettici in queste linee su Spotify. In pentota lì, Andrea Pazienza riaffiora una frase mutuata da Ernesto Guevara, non tornare mai indietro, nemmeno per prendere in corsa. Se dovessi definire un motto che incastona la vita e rabonda di Renato De Maria, regista nato nel 1958, non ne saprei scegliere una più adatta, ma magari Renato De Maria non è d'accordo. Allora, intanto questa frase appare nell'ultima scena di Paz del mio film del 2001 e che in qualche maniera racchiude un po' la filosofia non solo mia, ma di tutta la mia generazione, cioè diciamo così uno sguardo assolutamente incosciente e ignavo verso il futuro e verso il passato. Cioè nella mia generazione io stesso, diciamo così, siamo stati giovani e quindi abbiamo conosciuto la vita in un momento di rottura e di trasformazione grandissima sia per l'Italia, ma credo per tutto il Novecento, perché con la fine degli anni Settanta finisce la storia del Novecento e con gli anni Ottanta cominciano gli anni Duemila. Noi eravamo esattamente in quel bilico lì e per cui non ci abbiamo capito niente dall'inizio, per cui inutile guardare indietro, ma è tornare indietro e andare sempre avanti. Hai detto che sono nato nel 1958 in un'atmosfera non troppo lontana da quella di Rocco e i suoi fratelli. Sì, perché i miei genitori sono di un piccolo paesino del Sanni o di Vitulano e la loro storia è la classica storia di due ragazzi giovani che nel dopoguerra non hanno un futuro nel loro paese, come anche a Napoli dove avevano cercato di lavorare, mio padre doveva fare il sarto, aveva studiato da fare il sarto e quindi comincia questa migrazione della mia famiglia che nessuno dei due aveva letteralmente una lira dalla famiglia, quindi vanno prima a Civitevecchia dove nasce… no, prima nascono due figli, la prima e il secondo nascono Giuseppina e Domenico, nascono a Vitulano, questo piccolo paese del Sannio e poi la mia terza sorella Rosaria nasce a Civitevecchia dove loro provano a impiantare un laboratorio di sartoria, falliscono e quindi si trasferiscono a Varese dove nasco io e mio fratello Cosmo, quindi siamo in Cinque e va a fare l'operaio, praticamente a cucire i sedili dei pullman autobianchi e quindi raggiungendo mio zio, il fratello mio padre che faceva l'operaio alla Ermacchi e quindi raggiungiamo, arriviamo, la mia famiglia arriva nel 57 a Varese, la città che ha dato la vita alla Lega e ci installiamo in questa comunità meridionale di operai meridionali che non hanno, come gli immigrati adesso, non hanno casa, hanno questo lavoro con uno stipendio molto basso, mia mamma faceva il lavoro nero, faceva, cuciva le bambole eccetera, insomma gli inizi sono stati belli, tragici, mi hanno un po' segnato, sinceramente ne parlo un po' con, sai sono quelle ferite che per esempio i miei fratelli non hanno, sui miei fratelli non hanno lasciato traccia, su di me non so perché questa, quest'inizio di vita così difficile, questa casa dove abitavamo all'inizio. Però nella parte orientale della città, al confine con Induno Olona, tu hai detto in una vecchia intervista, avrei potuto raccontare molti dettagli melodrammatici su questa infanzia piena di difficoltà a Varese, eppure la cosa che mi è rimasta più in testa e più in mente come scarto sociale rispetto ai ricchi della città o i miei coetani più ricchi di me erano le matite del patronato scolastico, le famiglie che non avevano i soldi per comprarle venivano omaggiate da parte degli enti assistenziali delle matite, il patronato scolastico le forniva, le matite erano identificabili e tu ricordi questo momento a scuola in cui i bambini che come sappiamo tutti possono essere cattivissimi, ti indicavano a dito in quanto povero, no? Sì, e stavamo anche nelle ultime file, in quanto poveri, in quanto meridionali, c'erano le prime file. Iperclassista. Io perlomeno ne ho questo ricordo, poi adesso non so se poi nella realtà non era così estrema la situazione, io ne ho un ricordo estremo, sì. Questo astuccio, sì sì, è uno dei miei traumi, indubbiamente. Senti, secondo te quanto si riscrive nell'arco degli anni con le suggestioni, con le esperienze che ci piavano addosso la propria biografia, tu hai detto il ricordo è questo, ma poi per esempio i miei fratelli non sono stati così colpiti da questa cosa, quindi può anche darsi che sia stato un tuo sentimento, no? Quanto è facile indulgere alla riscrittura del proprio passato? Ma io non ho fatto altro, praticamente. Ho sempre riscritto questa roba qua. Ovviamente ho uno spirito anche, partendo dalla tragedia, non puoi che finire nel comico, quindi mi piace moltissimo le situazioni estreme e il comico anche, no? Però indubbiamente se c'è una riscrittura di un'esistenza riparto sempre da lì. Un ragazzino povero... Ma non è solo un ragazzino povero, un ragazzino che non c'entra niente, cioè che non è dentro a nulla. Ecco, quella la sto riscrivendo tuttora, diciamo così, non è ancora finita quella fase puersenex, non si è mai completata. Arriva ad un certo punto il colpo di fortuna, no? Tuo padre viene assunto a Bologna e quindi voi vi ritrovate dall'immagine iconica del meridionale con le valigie di cartone che sale dalla Campania al nord più profondo in una città diversa da Varese che è Bologna e fate proprio un salto, compite il salto sociale che poi c'è in tutte le immagini castiche degli anni 60, no? Dal sottoproletariato alla piccola borghesia con la 600 nel cortile, il televisore, la lavatrice. Bravo, bravo. Con Bologna è arrivata l'automobile, è arrivata la televisione che era già arrivata a Varese però insomma la televisione è arrivata veramente con l'automobile, la bicicletta per me. Bologna è stato il passaggio alla piccola borghesia, diciamo così, che in qualche maniera anche lì però io ho vissuto come un trauma comunque perché poi dopo ci erano trasferiti da quei casolari dove vivevamo all'inizio erano trasferiti in questo quartiere popolare dove erano tutti i meridionali con tante palazzine. Fuori porta San Felice quasi? No, 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 a Varese, diciamo, quartiere San Fermo che era un quartiere che stava nascendo diciamo così, no? E quindi c'era questa vita per la strada, tutti i ragazzini, tutti come me, tutti i figli di meridionali eccetera eccetera, abbastanza… C'è una cosa rosselliniana proprio. Sì, sì, sì. E poi un giorno mio padre aveva fatto un concorso dieci anni prima, all'inizio degli anni 50, gli arriva la notizia che l'ha vinto e quindi diventa sarto militare nella caserma. E tu te lo ricordi il momento in cui ve lo dice? Andiamo tutti a Bologna? Assolutamente. Un dolore enorme. Partire, lasciare le strade, gli amici, le cose dove andiamo, di qua, di là, eccetera. E poi arriviamo in questa villetta, come si sono a Bologna, nelle stradine molto carine, curate, eccetera, eccetera. Quindi all'inizio un trauma, anche quello, però insomma adesso senza piangersi addosso, in un annetto siamo entrati dentro alla… a Bologna non c'era… non ho mai sofferto la cosa sui meridionali o meno, non ho mai sofferto… Bologna è più accogliente, più… non lo so, forse siamo stati fortunati, non eravamo più nel quartiere, diciamo, magari se andavo a finire, che ne so, al pilastro, alla barca, che sono io nei due quartieri popolari allora, magari avrebbero rivissuto le stesse cose. Ti ricordi un clima allegro in casa? Molto. Molto? Sempre, anche quando eravamo poveri. L'unico che non si divertiva ero io. Ma sai perché, tanti figli della mia famiglia, tanti figli della famiglia di mio zio, tanti figli, quelli del cugino, della cugina, della cugina, quindi eravamo sempre 40-50 persone a mangiare, a passare la domenica insieme. Senti, e Bologna diventano appunto biciclettate a due passi dai fiumi, partite di pallone, macchine fermate con la mano, aspetta mo' che recupero il pallone, no? Cioè era un clima ancora, diciamo, scisto tra la città umana è possibile e la campagna, no? Sì, perché eravamo fuori porta noi comunque, che sono pochissimi metri, però faceva la differenza, perché allora adesso, adesso ci sono tornato recentemente a vedere, adesso è tutto un unicum, diciamo così, non di palazzi popolari, però di, insomma, il quartiere, sono nati vari quartieri per cui, che allora non c'erano, allora c'erano i prati, per cui c'erano appunto i fiumi, i canali a cielo aperto, i pratoni dove si andava a giocare a pallone, con la bicicletta, e quindi, sì, perché eravamo fuori porta, non vivevamo il centro. Si possono avere 18 anni in tante città europee, si possono avere 18 anni durante il maggio parigino del 68 e vivere a due passi dalla Senna, ma si possono anche avere 18 anni e vivere a Bologna dove, come diceva Guccini, scoppia il mondo fuori porta San Vitale, dove c'è l'ultimo esperimento grande di effervescenza giovanile italiana, che è il 77 appunto, c'è Via Clavature 20, c'è Scozzari, c'è Friccantoni, ci sono i Gas Nevada, ci sono videomaker come te che si ritrovano tra Radio Alice, i moti di piazza, le uccisioni da parte di carabinieri, in particolare di un ragazzo che si chiama Francesco Dorusso, i carri armati mandati da Cossiga per sedare alla rivolta e l'ostilità preconcetta ma vivissima dei veri padroni della città che sono i compagni del PC. In questo coacervo di emozioni, confusioni e di scrittori e filosofi francesi che arrivano per dare una mano al movimento, come descriveresti il 77 italiano e come descriveresti più in generale la bolla in cui ti ritrovi a notare? Il 77 italiano e il 77 di Bologna, il 77 italiano sono le formazioni politiche dell'estrema sinistra che si radicalizzano in uno scontro appunto con la sinistra istituzionale e sfociano in un clima di violenza molto forte, sia verso la destra ma sia anche verso la sinistra istituzionalizzata, si crea una specie di cortile chiuso in cui la violenza esplode nelle strade in maniera pazzesca. Io ho fatto un film che si chiama La prima linea sul terrorismo che insieme all'eroina è stata la tragedia finale del 77, quindi per dire il 77 italiano cosa è stato, cioè la fine, appunto pensavamo fosse un inizio invece era la fine di tutto. Il 77 Bolognese è stato diverso per vari motivi, uno di questi motivi è sicuramente l'esperienza di Radio Delice, nel senso che l'esperienza di Radio Delice è di un intellettuale trasversale come Bifo che appunto si collega poi ai filosofi francesi eccetera, l'esperienza di Radio Delice che è stata la prima radio libera, diciamo così, italiana che ha aperto i microfoni a tutti. Non era una radio come, non so, Via De Volce a Roma dove erano solo quelli di Via De Volce Collettivi eccetera o Radio Città Futura eccetera. Radio Delice era un microfono aperto, chiunque voleva poteva andare a mettere su quello che voleva. Questo ha creato una specie di grande fermento, mettici anche vicino a Radio Delice il Dams fondamentale, Gianni Celati fondamentale, Umberto Eco fondamentale, tanti altri professori. Certo perché questo accade in una città universitaria, no? Bologna è 500 mila abitanti, 100 mila studenti. Ecco diciamolo. Diciamolo perché se no non capiamo il contesto. Non è una città di operai come Milano dove c'era la classe operaria. O come Torino. O come Torino o come Roma che era la borghesia diciamo così del terziario diciamo così. Adesso sto veramente andando a dobbiamo semplificare per forza. Semplifichiamo. Bologna è una città universitaria, una città in cui un quinto della popolazione sono giovani studenti. Tra l'altro a Bologna arriva la prima generazione del boom economico. Non dimentichiamolo. Quindi c'erano come nella mia scena di pass i calabresi, i siciliani, i ragazzi che erano figli di una classe che non aveva mai potuto ambire a studiare all'università e che grazie al boom economico arrivano all'università. Quindi tu descrivi tutti gli elementi ideali per il caos. Perché il caos si realizzi. Ed era un caos a cielo aperto. 24 ore su 24 tra i licei, le università e le varie facoltà eccetera. Con questi portici meravigliosi, queste piazze chiuse che sono come dei piccoli salotti. Con questi centomila giovani per la strada che ci hanno voglia di divertirsi, con le droghe leggere, con tutta una serie di psichedelie varie, il 77 nasce come una grandissima festa a Bologna. Infatti era la creativa. ci deve scusare Guccini, ma ancora una volta, probabilmente considerato un iper borghese dai 77 dell'epoca, però mercati all'aperto bistro della Rib Gauche, l'odore. Ed è anche una città in cui effettivamente la sinistra ufficiale non si prende mai e non capisce mai quelli che il PC chiama l'anzichenecchi. Purtroppo non ha capito che non sono gli studenti figli della borghesia di Pasolini quelli, sono gli studenti proletari che arrivano lì. E invece il PC li tratta come, diciamo così, noi siamo gli operai, voi siete gli studenti, vi siete privilegiati, ma quelli erano i figli dei contadini siciliani, dei calabresi eccetera. E Berlinguer li chiama fascistelli, mi sembra. E Berlinguer all'inizio li chiama fascistelli, poi insomma, ma soprattutto anche la classe operaia bolognese, il PC si rigidisce immediatamente, Zangheri. Lo storico sinaco di Bologna, certo. Sì, è inutile andare lì adesso a dire le colpe, le cose eccetera, però è un fatto che lì è successo una misunderstanding, diciamo così. Il 68 francese è stato accolto, no? Il 77 italiano, che comunque aveva delle idee geniali dentro, perché quasi tutto quello che è successo negli anni 80 sono nati nell'ala creativa del movimento, dalle televisioni libere, ai grandi giornali fumettistici, anche il male, le satire, bravo. Tutta una serie di cose che caratterizzano gli anni 80 nascono in quel periodo lì. Invece di capire questo potenziale creativo, no? Che alla società italiana avrebbe fatto bene, nasce uno scontro diretto, culminato poi nel marzo del 67 con l'omicidio casuale di Francesco Lorusso, a cui si risponde incendiando la città. Incendiando la città. Incendiando la città. E arrivano i carri armati. In tre giorni si passa dalla festa, dal party continuo, al carri armato nella piazza, in Piazza Verdi. Fanno molte impressioni i carri armati appunto tra Piazza Verdi e via Zamboni, cioè nel cuore universitario di Bologna, Roberto Troversi, il poeta che è il padre di tre dischi molto importanti di Lucio Dalla, il giorno aveva cinque teste, ha un diritto solforoso e automobili. Scrive Dilo Russo, ucciso in via Mascarella dai colpi di un carabiniere, un ragazzo venuto da niente, ucciso per strada, colpito alla fronte, che è esattamente la fotografia di quello che accade da Russo. La città si incendia, Radio Lice viene chiusa e ci sono delle registrazioni di quella serata drammatica in cui le forze dell'ordine alle porte e abbattono la porta e finisce tutto. Non so quanto poi avessero contribuito la cacciata di lama a Roma, all'università. Molto. Molto, certo, l'idea che il movimento fosse violento. Appunto, aspetta, devi contestualizzare che poi Bologna però era al centro di questa 77 che io ti avevo descritto prima, che comunque dove c'era la violenza stava salendo, la temperatura stava salendo tantissimo, per vari motivi, per vari motivi. Per cui quella roba lì ha innescato, proprio quell'11 marzo, ha innescato la fine, praticamente, appunto la tragica, il tragico finale, il terzo atto, il famoso terzo atto. Non ci dimentichiamo che un anno dopo c'è Aldomoro, no? Quindi comunque sono anni tremendi, diciamo, da ogni punto di vista. Certo, tremendi, tremendi. Tu hai girato nel 1991, adesso potrei sbagliarmi con gli anni, mi correggi tu, un bellissimo documentario portato al Festival di Torino che si intitolava Il trasloco sulla casa di Via Marsini in cui Bifo, Franco Berardi, grande ideologo, non so se la parola gli piacerebbe, del 77 bolognese, poi addirittura arrestato, portato da San Giovanni in monte, in prigione, quindi a Bologna, lascia questa casa che è stata una casa iconica in cui si sono avvicendati tutti i protagonisti del 77 bolognese e Angelo Pasquini, poi sceneggiatore, dice una cosa molto bella nel film e dice noi, la nostra generazione ha provato a fermare il tempo. Era davvero quella la sensazione che tu avevi in quei giorni a Bologna e che cosa significa provare a fermare il tempo? Ma è quello che dicevamo all'inizio, mai tornare indietro neanche per prendere la rincorsa, vuol dire proprio non avere l'idea del passato e non avere l'idea del futuro, ma l'idea di un qui e ora che era rivoluzionario in qualche maniera e che significava non riconoscere il potere al tempo, proprio quello. Cioè in fondo noi siamo, il tempo è il nostro potere, è il potere che domina la vita da quando nasciamo. L'idea di poter fermare il tempo e quindi di non riconoscere al tempo il potere sulla vita delle persone e sui desideri e sui sogni delle persone, che quella era la cosa più poetica e più forse naif di quel momento. Però anche più rivoluzionaria. Però anche più rivoluzionaria, ovviamente destinata a fallire, però la base di tutto era proprio quello, fermare il tempo. C'è un romanzo di quegli anni bellissimo che non ha avuto la fortuna che meritava, che è Boccalone di Enrico Palandri, che descrive… Beh, all'epoca è una fortuna incredibile, io ero amicissimo di… perché poi c'è questo tratto della mia vita, che non so perché, sono sempre amico della persona che poi diventa per un momento, poi anche per tutta la vita, famoso, no? Chissà perché è una coincidenza. Beh, poi ne parliamo, visto che hai conosciuto Baschià quando ancora si faceva chiamare Samo, ma è già un secondo tempo. Io dormivo a casa di Palandri, spesso, perché è questa casa in via Begatto, dove poi è ambientato il libro, conoscevo benissimo Anna, che era la… La musa, sì, la bellissima ragazza di cui si innamora il protagonista, certo. Esatto, e quindi quando esce questo libro, io frequentavo già Enrico da tempo, da sempre, insomma, in questa famosa festa a cielo aperto, dove poi dormivi dove capitava, spesso dormivo in via Begatto. E lui era tristissimo per questa storia d'amore che era finito, aveva cominciato a scrivere questo romanzo, di cui leggeva tutti in piazza alle due del mattino dei pezzi, eccetera, eccetera. E poi a un certo punto si sparge la voce che Elsa Morante ha preso il treno per venire giù a Bologna per conoscere Enrico Palandri. Perché aveva letto il boccalone, effettivamente, non so se tu l'hai occasione, cioè io l'ho riletto recentemente proprio per… Non lo leggo da trent'anni, non lo leggo da trent'anni, però ho conosciuto anch'io Anna. Molti anni dopo a Bologna ho conosciuto anch'io Anna. No, perché chiunque avesse letto il libro provava a inseguire la realtà di quella cosa che ovviamente non c'era più da nessun punto di vista, però devo dire che tutta la dolcezza, non compresa di prelutto, diciamo, prima della morte di Lorusso, in quel libro c'è, perché c'è anche il sogno, non c'è solo… cioè se tu hai in mente solo le Molotov e le vinerie incendiate, hai un'immagine, esattamente come a Genova nel 2001, se tu vedi… Esatto, sì. Però c'è anche tutto il prima, c'è… hai detto una cosa bella, prima le rivoluzioni spesso sono destinate a fallire, però per esempio Andrea Pazienza, tuo grande amico, nelle straordinarie avventure di Pentotal pubblicate da Linus, mette in scena, mette nelle sue memorabili strisce, in scena lo sgomento che si ha rispetto all'idea dell'oppressione poliziesca che arriva a Bologna e tratta tutti gli studenti come terroristi, nessuno escluso, e non è forse, ti chiedo Renato, un paradosso che la persona che meglio abbia interpretato i sogni di quei ragazzi sia stato poi un fumettista? E non dirò morto giovane perché sarebbe troppo aulico, mi limiterò a dire un fumettista. Ma sai, dipende da come vedi Andrea, perché Andrea era un fumettista geniale, con un tratto velocissimo, vederlo disegnare, era uno spettacolo veramente, era pazzesco, come immaginava proprio la, come nasceva il racconto visivamente con due tratti, dati distratti, proprio un talento pazzesco, ma il talento di Andrea, forse mai riconosciuto abbastanza, è la scrittura, era uno scrittore pazzesco, cioè se tu ti rileggi i testi di Pentota, di Pompeo, ma qua e là anche di vignette pubblicate sul male, c'è dentro un racconto alla Salinger, cioè veramente un grandissimo scrittore. Poi calcola che lui ha avuto una fortuna pazzesca in cui il talento ti nasce, ti esplode in contemporanea con la tua giovinezza, cioè non è che è diventato bravo a 30 anni, lui a 20 anni era già così e quindi tu a 20 anni con quella freschezza lì descrivi i tuoi amici, le cose che vedi, le cose che… non era biografico, autobiografico sicuramente, però trascendeva l'autobiografia, tant'è vero che il mio film, Paz, che parla dei fumetti di Andrea Pazzesco, non di… perché è una specie di mia biografia, quando tu mi chiedevi all'inizio quante volte riscrivi il tuo passaggio, in continuazione non faccio altro, io volevo fare un film su quella generazione lì, su quella vita lì pre-11 marzo, diciamo così. 11 marzo, ricordiamolo per chi non conoscesse la storia, è il giorno in cui Francesco Russo, studente, viene ucciso in via Mascarella a Bologna, dietro proprio alle spalle di Piazza Verde, quindi in piena zona universitaria e tutto cambia, precipita, arrivano i carri armati di Cossiga eccetera. Prima parlavo di questa festa… Continua, no? Continua, non lotta continua, festa continua, con tra l'altro anche un flusso musicale bellissimo eccetera. Volevo scrivere quella generazione lì e ho provato a scrivere i miei ricordi, le mie cose, poi dopo ho preso in mano le tavole di Andrea Pazzesco che erano autobiografiche indubbiamente, perché c'erano i miei amici, la mia vita, come parlavano, sapevo benissimo chi era quello, chi era quell'altro, poi quel linguaggio, quel gergo alto-basso, quindi altissima letteratura, Cervantes, Moby Dick, questo e quell'altro e Osteria. L'espediente per portarsi a letto la bella, no? Esatto. E che dico, ma è qua, è qua il film, quindi non faccio un film su Andrea Pazzesco, faccio il film su questi personaggi qua e tuttora, lo dico perché non è merito mio, perché è merito di quell'universalità che racconta Andrea, cioè della giovinezza al bordo, prima di sbocciare nella maturità, quel momento che tutti noi abbiamo vissuto, il mio film ancora adesso la gente incontra delle persone, di generazioni molto successive alla mia, cioè ancora adesso ragazzi di vent'anni eccetera eccetera, che il film se lo guardano, lo conoscono a memoria e non è merito mio, credo. No, però è merito tuo aver individuato, ti cito qui, l'età in cui evaporate le gioie delle giovanili ti viene chiesto il prezzo della felicità progressa, no? È proprio un passaggio, una linea d'ombra corradiana, è quello scarto. Che c'è anche nell'esame di Fiaveschi, appunto. Che c'è anche nell'esame di Fiaveschi, appunto. Tu hai passato tanto tempo a vedere, disegnare con quella velocità e quel tratto quasi bulimico che diceva di se stesso se mi dovesse succedere qualcosa vorrei solo un po' di terra a Sansevero dove era nato e un albero sopra, no? Che poi è esattamente com'è andata. Esatto, bravo. È morto giovane Andrea, no? Pazienza, per overdose, dopo che aveva superato probabilmente i problemi di droga. Sì, che è un classico, quando si smette di drogarsi, come aveva fatto Andrea che si era trasferito da Bologna e aveva lasciato tutta una serie di situazioni che potevano essere complicate per uscire dalla toscodipendenza, si era trasferito in Campania e poi è andato a Roma e ha comperato una dose e è tornato dopo anni che non si faceva più e quando una persona si è ripulita e magari si rifà con la stessa quantità di droga con cui ti facevi, ma il corpo era abituato e quindi, anzi ne aveva bisogno sempre di più, quando si è pulito l'ha stroncato. Del resto anche, vi voglio ricordare anche Tamburini, un altro genio di Roma, un genio vero. Tutta la sporca dozzina che diede vita al male, no? Poi dopo il giornale satirico che individuò Ugo Tognazzi come capo delle Brigate Rosse, con Tognazzi complice. Esatto, Tamburini è lo sceneggiatore di Ranzerox che è un capolavoro. Capolavoro del fumetto italiano. Esatto, anche lui è morto di overdose. Questo 77 ti arriva addosso e ti scopre inaspettatamente moralista. Cioè tua sorella era entrata prima nel movimento studentesco e tu avevi cominciato a vedere a casa arrivare torme di giovani barbudos con l'eskimo addosso, gente che fumava. Hai detto per me all'epoca solo vedere fumare era gravissimo, no? Quindi cosa ti fa superare questa diffidenza iniziale? La vita, cioè la vita nelle strade, il fatto che con i miei amici intanto cresco, abbandono, lascio diciamo così la visione del mondo trasmessa da mia madre ed entro in una visione del mondo che comincia ad appartenermi di più. E poi quando tu hai 14, 15 anni e vedi tua sorella che cambia, eccetera, tu sei come tutti i bambini sono conservatori. No. L'ordine è la cosa che gli permette di crescere. Se tu gli crei disordine il bambino va in crisi, cioè ne soffre. E quindi io che ero, avevo ancora, non ero proprio un bambino, però il disordine portato da mia sorella e dai suoi amici mi… Ti disturbava. Mi disturbava moltissimo. Ti destabilizzava. Mi destabilizzava, dico ma come mai mia sorella frequenta la gente che fuma, che porti in casa sta gente con i capelli lunghi, sporchi, che ridono alta voce, eccetera. E poi dopo cominci ad avere 15-16 anni, cominci ad uscire con i tuoi amici e insomma conosci la vita e capisci che… Insomma è chiaro che abbandoni, no? E ti butti… Ancora frasi tue. C'era un certo insensato disprezzo per la vita alla fine degli anni 70, una sorta di melefrighismo artistico per cui da un lato pensavi di essere eterno e dall'altro che anche se fosse finito un minuto dopo ne sarebbe valsa comunque la pena. Sì. Era così? Era così. E non era faticoso vivere in questa condizione? C'era una spudoratezza meravigliosa, non era assolutamente faticosa, era spudorato. Una spudoratezza che non hai mai più ritrovato dopo? Con quella forza, con quella dinamica quasi ignorante, no, non l'ho più ritrovata dopo. Chiaramente subentra una cognizione della vita un po' più problematica, con un po' di dubbi. Allora dubbi non ce n'erano, capivamo il mondo solo noi e sapevamo tutto solo noi. Cosa che era anche vera, peraltro, in quel momento. Non lo dico solo io, lo dice anche Andrea in una cosa di Pompeo, eccetera. Poi arrivare a 30 anni era… cioè arrivi a 30 anni e dici ma dai sono arrivato a 30 anni, non l'avrei mai detto. Non ti poni proprio il problema di arrivare a quell'età lì, a 21-22 anni, quando ti succede tutte queste cose. Non concepisci proprio… Però tu dici una cosa di pazienza molto vera, no? Era… lui riusciva a fotografare la realtà in presa diretta. A te, per esempio, per elaborare tutto questo… Decenni! Eh, decenni, no? E t'ora! E comunque passi un'estate, sempre parole tue, per fuggire da una paranoia che ti stava distruggendo, appunto quando l'ebbrezza muta in tragedia e cambia proprio il vento, non solo su Bologna ma sull'Italia tutta, lavori per un'estate come Facchino e ad un certo punto raccogli, non si sa come, quattro ride per andare a New York e parti per New York. Parto per New York perché non riuscivo ad immaginare un futuro, non sapevo che cosa volevo, non avevo… cioè studiavo all'università, andavo anche bene, studiavo economia politica, ma mi rischete economia politica perché la politica allora era il linguaggio più diffuso, diciamo così, e quindi pensavo che quello sarebbe stato il mio futuro, ma in realtà da subito capisco che non mi può fregare di meno della politica, non mi interessa più quel linguaggio lì, non mi interessa più stabilire e capire il mondo dal punto di vista della politica come gestione sociale, quindi se è giusto o non è giusto che ci sia questo, ci sia una classe o non ci sia una classe, che è il movimento, che la rivoluzione è possibile o non è possibile, non mi interessa più il linguaggio della politica, ne provo un discreto schifo, soprattutto derivato sia dall'utilizzo del potere da parte del potere, ma sia anche dall'utilizzo della violenza da parte di persone con cui prima avevo un linguaggio comune e che improvvisamente non riconosco più e nelle loro azioni parlo dei ragazzi che ho conosciuto e che sono entrati in prima linea appunto, scoppiò, ho fatto un film contro la prima linea e che a Bologna aveva un gruppo di fuoco e erano persone che li incontravi per la strada e poi dopo a un certo punto sparivano, ma che fine ha fatto quello o quell'altro eccetera eccetera. Quindi erano entrati in clandestinità? Erano entrati in clandestinità, poi dopo venivano arrestati o uccisi o loro uccidevano, a quel punto capisci che no, non è la mia tazza di tè, non sapevo qual era la mia tazza di tè, tutt'ora non lo so, ma sicuramente non era quello, quindi anche rispetto al fatto che avevo scelto di studiare economia politica eccetera, non mi ritrovavo una tristezza addosso, me la ricordo come un tonfo proprio, appunto da quella iubris stupenda, spudorata che dicevo prima, poi un tonfo clamoroso per terra proprio, per cui vado a New York. Perché vado a New York? Perché una parte della mia famiglia meridionale è andata a New York, cioè ne avevo una parte in Sud America e una parte a New York, quindi c'era una mia zia, la sorella di mia mamma che stava a Brooklyn, a Bensonhurst, che è proprio il quartiere degli italiani di Brooklyn storico e poi aveva anche un figlio che viveva a Long Island, Valley Stream, che era un piccolo paesino solo italiano, dove c'erano solo italiani e arrivo e mi piazzo lì, da mia zia e da mia cugina. Quasi come ritrovarsi a San Fermo a Parese. Uguale. No, ed è pazzesco, guarda, pazzesco. E con mia zia, che era a New York ormai da 40 anni, cioè aveva vissuto tutto, era arrivata lì che aveva 20 anni, no? Che non parlava una parola d'inglese, ma non parlava più nemmeno una parola d'italiano. Parlava una lingua sconosciuta, imbastardita, che per cui non capivo che cosa diceva, no? Renato, ci pigliamo l'aliveta. Ma cos'è l'aliveta? L'elevator. Fu il marito, si chiamava Domingo. Domingo, parca o carro? Parca o carro? Park the car. Ah, è stupendo. Capito? Ti faccio le meatballe. Meatball. Insomma, tutto un linguaggio meraviglioso. Lei parlava italiano, i suoi figli parlavano solo inglese, chiaramente erano cresciuti lì, e quindi non si capivano, c'erano misunderstanding continui. Divertentissimo, veramente divertente. Tu a un certo punto evadi da questa reunion. Ovviamente, ci resta un mese. Un po' aspettica. Ci resta un mese per orientarmi, capire dove sono, che devo fare, eccetera. Però ero andato lì con un obiettivo, cioè di iscrivermi alla Columbia, fare un semestre alla Columbia attraverso una lettera di un mio professore che aveva scritto un altro professore che insegnava alla Columbia, per fare… nel frattempo mi ero trasferito lì a Bologna da Economia e Politica a Filosofia, io poi ho studiato Filosofia, e quindi per fare un semestre alla Columbia, di Filosofia, ma soprattutto per imparare bene la lingua, eccetera, eccetera. E quindi, appunto, mollo mia zia, tranne la domenica in cui andavo a mangiare le mie bolle, appunto, vado alla Columbia e mi trovo un lavoro, chiaramente, quindi ovviamente non so cucinare, non so… però sono italiano, quindi mi rivolgo ai ristoranti italiani del Greenwich, eccetera, non di Little Italy, e vado praticamente a tagliare le verdure, tagliavo le verdure, quindi era un aiuto cuoco, diciamo così, e lavoravamo fino alle tre del mattino, eccetera. A quel punto comincio a guadagnare anche pochissimi dollari e quindi affitto anche, decido di affittare un appartamento. In downtown, il più economico che potevi trovare? Il più economico che potevo trovare, dice guarda, affittano un appartamento, un musicista che si chiamava Evan Lurie, che poi era fratello di John Lurie, doveva partire, doveva andare via, dice affitta il suo appartamento, subaffitta, cioè quanto costa un dollaro al giorno? Lo prendo. Il riscaldamento era sempre rotto, perché c'aveva le tubature fuori, calcola che East Village allora era… c'è un posto di barboni, adesso è fighettissimo, è un posto fighetto. L'epoca c'era di avere paura tornare la sera a casa, cioè paura vera? Di brutto, io stavo sulla Bowery, Second Avenue, tra Bowery, Second Avenue e Second Street e praticamente attraversata Second Avenue, poi c'era First Avenue e poi c'era Alphabet City, dove c'erano tutti i palazzi crollati, dove è ambientato Sidenensi, dove c'era il mercato anche lì dell'eroina a cielo aperto, cioè era una New York pazzesca proprio, veramente. Quindi io ho affitto lì, perché comunque è un dollaro al giorno, cioè… Tagliando le verdure è perfetto. Perfetto. E tornava a casa sempre alle tre del mattino. Nel palazzo ci abitava tutta gente che si poteva permettere un dollaro al giorno e quindi erano tutti, tutti, tutti wannabe, tutte persone che volevano fare gli artisti e lì appunto ho avuto la mia epifania, diciamo così, ho capito… Che volevi fare l'artista. Beh sì, che loro mi piacevano. Era un linguaggio potentissimo dal mio punto di vista, molto più potente di quello della politica, il sogno della politica e della filosofia, Bifo, Guattari, Deleuze, per carità, era stupendo, è molto potente il linguaggio della filosofia e il linguaggio del pensiero, quando si esercita il pensiero, è bello perché immagini i mondi nuovi… È una bella vertigine, certo. L'artista è immediato, è come Andrea, tre tracce e hai già detto una verità, quindi mi è piaciuto immediatamente più, è un gesto praticamente, anche se poi sono andato a finire a fare il regista che sono gesti che durano 3-4 anni, però è sempre un gesto, diciamo così, e dove soprattutto c'è dentro il gesto, non la riflessione. In quegli anni tu conosci Aldiaz, conosci Ketaring, conosci Basquiat, che si faceva chiamare Samo, no? Esatto. Basquiat abitava al terzo piano di quel palazzo, era il tuo vicino di casa, era il mio vicino di casa, si chiamava Samo e a pochi blocchi da lì ci abitava Ketaring con Kenny Sharf e al secondo piano c'era John Lurie e quindi tutta quella wave musicale, io non sapevo niente, proprio niente. come conosco tutte queste persone, anche se erano i miei vicini di casa? Perché mi contatta, allora in Italia c'è il 7 aprile. A Padova diciamo un pubblico ministero fa arrestare toni negri, gente che all'epoca era in odore di eversione, eccola. Dirigenti di poter operaio, vari, vari dirigenti di poter operaio e di lotta continua. E questo 7 aprile ti induce a cosa? No, a me non induce niente, io ero là il 7 aprile del 79 e io ero a New York, quindi leggo anch'io sui giornali, tra cui anche Bifo, no? Che va latitante, Deleuze e Guattari che fanno il manifesto, tutti vanno a Parigi, mezza Italia scappa a Parigi dove Mitterrand difende, li difende in quanto… La dottrina a Mitterrand, certo. Esatto, rifugiati politici e non eccetera, di cui poi dopo la storia di Battisti è un esempio. Quindi succede il 7 aprile e mi contatta Diego Cortes che era un artista e poi è diventato un grande scopritore di talenti tra cui Basquiat ma anche Jeff Koons eccetera eccetera, che è morto pochissimo tempo fa, che in realtà in qualità di grafico e di artista curava la grafica di questa rivista che si chiama Semio Text di Silverlo Tringer e che decide di dedicare, perché era figo, l'Italia era figa allora per questi intellettuali new yorkesi eccetera, di dedicare un numero completo al 7 aprile, all'Italia, alla rivoluzione immaginata a questi qua, a questo gruppo di intellettuali che fuggì in Francia, cioè visto dall'America sembrava una roba super figa, no? E quindi Diego Cortes che sa che sono di Bologna mi contatta, si spassa la voce nel quartiere. Forse va ricordato anche che in America si è in piena amministrazione Carter, quindi forse il presidente più progressista degli ultimi 70 anni in America, tolto Kennedy voglio dire. Beh poi la cultura new yorkese è la cultura più leftist possibile da immaginare per l'America, cioè non è quella del sud del Texas. No, chiaro, né dell'Alabama, certo. Esatto, calcola che io alla Columbia ogni due per tre incontravo poeti pazzeschi, Allen Gisberg, non so, era sempre lì, io veniva lì a fare delle letture, Allen Gisberg, cioè c'era proprio una super, al Greenwich c'era ancora l'odore di Bob Dylan, cioè c'era ancora... Era un'area cheroachiana che ancora faceva sentire la sua onda, certo, quindi ti contatta? Mi contatta perché vuole materiale dall'Italia e soprattutto vuole contattare Bifo, vuole contattare tutta una serie di persone, eccetera, e io mi metto a disposizione. Senza telefonino, inferno. Senza telefonino, lettere, robe, telefonate, coi gettoni, delle cose assurde e nel frattempo diventiamo amici, io e Diego, no? E dici, vieni, ti porto, vuoi venire al Mad Club a sentire? Va bene, io però lavoro, esco alle tre, alle tre ti faccio entrare io di qua di là e al CBGB, in un altro locale che stava a Union Square dove vidi un casino di concerti pazzeschi di band incredibili, insomma entrano in questo mondo che è il mondo dell'underground new yorkese, fine anni 70, quindi Jim Jarmusch ho conosciuto io, che doveva fare ancora il primo film che si sarebbe poi chiamato Stranger Than Paradise. Conosco Jean-Michel che si chiamava Semo, conosco Kiterin, conosco tanti registi che facevano Super 8, attrici, attori di quel mondo super decadente, diciamo così, tutti poveri, tutti senza una lira, eccetera, e a San Mark Place c'era questo cinema dove proiettavano tutti i Super 8 di tutte le persone, eccetera, quindi c'erano le serate lì, poi si andava al CBGB, poi si andava al Mad Club, io li raggiungevo sempre però tardi, eccetera, e ho cominciato questa vita in questa comune fantastica, fantastica, non ho nulla di Jean-Michel, di Andrea Paschiato, no, mi ha fatto un ritratto, mi ha fatto un ritratto perché una volta faceva molto freddo, ero rientrato a casa, avevo un naso rosso, 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 mi fece questo ritratto che so anche dov'è ma non posso recuperarlo, quindi non saremo ricchi. Mannaggia no, anche Chiteri, ma anche lui era come pazienza, disegnava in continuazione questi radianciaggi, avrei potuto… Voglio dirti che è un rimpianto che condividi con la metà dei corniciai romani o dei ristoratori romani che si sono visti regalare di Mario Schifano veri all'epoca e che li hanno passati a loro volta e di cui si sono persi le tracce. No, ma il mio era proprio un'ignoranza vera, non sapevo di essere in quel punto lì, in quel momento lì. Comunque tutto questo coacervo di artisti che ancora devono avere la loro prima occasione e che la stanno cercando, fa sì che qualcosa ti venga in mente, perché nel marzo 81 davanti in un albergo di Washington, Ronald Reagan subisce un attentato e tu con questi minuti di attentato, diciamo, costruisci il tuo primo film, no? Sì. Come avviene il passaggio? Avviene che io torno in Italia, mi ficco in Via Clavature dove c'erano appunto… A Bologna, certo. Esatto, dove c'erano i Gas Nevada che stavano facendo il loro… Il loro primo disco. Gli Schiantos che volevano fare il loro primo disco, Pazienza che pubblicava già sul male ed era già praticamente una rock star, come diceva lui, c'era una vignetta bellissima, Andrea Pazienza, praticamente una rock star. Il Cannibale, Scozzeri, era una specie del palazzo che c'era a New York e anche lì dico io che faccio? Non so disegnare, non so suonare, però voglio fare qualcosa, no? E quindi comincio a registrare materiali della televisione, allora c'erano le televisioni libere, no? Tipo Tele Santerno, Tele quello, Tele quello, e comincio a registrare materiale tipo Colombo, l'Incredibile Hulk, vecchi telefilm, eccetera. E avendo studiato filosofia e avendo visto a New York come approcciavano la cultura pop a quegli artisti da Jean-Michel a Colombo, bisogna andare sul pop e quindi rimonto, comincio a rimontare questi materiali per cui faccio una sequenza di sei minuti sull'Incredibile Hulk che si trasforma, che diventa cattivo, no? E su tutte trasformazioni. Di Colombo faccio una roba sul Tenente Colombo che torna indietro, sempre che torna indietro, sai che era un classico, Tenente Colombo risolveva tutti i casi, facendo una domanda diceva va bene, ok, stava per uscire, torna indietro e risolve il caso, no? E quindi… Molto linciano, molto Mulholland Drive, molto… da un certo punto di vista. Faccio, comincio a fare questi video con cui facciamo una performance con gli stupid set dove faccio un wall di cose, eccetera, eccetera. E poi arriviamo anche a Ronald Reagan, appunto prendo il telegiornale e comincio a smontare e rimontare i telegiornali dell'omicidio di Reagan. Faccio questo video che chiamo Stress Therapy. E come arriva il Festival di Torino, dove vince il primo premio Stress Therapy? Che incontro un tipo che dice, sai che fanno un festival a Torino, perché non mandi le tue videocassette, VHS tra l'altro mandai, magari gli interessano, fanno anche una sezione video, non solo, fanno anche una sezione sui video, molto sperimentale, nuova, eccetera. Dico, dammi l'indirizzo, lo mando. Era Guido Chiesa, tra l'altro, quello che mi disse. E quindi, che io però avevo mandato da Jim Jarmusch, perché lui andava a New York alla sua volta, mi chiese, dammi il numero di Jim Jarmusch, gli diedi il numero di Jim Jarmusch, anzi chiamai Jim Jarmusch, guarda, viene questo ragazzo, eccetera. Poi Guido Chiesa ha fatto l'aiuto regista per Jarmusch nel film, quello successivo, non mi ricordo quale, e quindi lui mi disse, appunto, che era amico di Barbera, di Alberto Barbera, e di Alberto Barbera. Cioè un giro di biellesi e torinesi. Esatto, sì. Mi dice, manda le cassette, manda le cassette, non mi manda niente nessuno, non mi scrive niente nessuno, dico, vabbè, stiazza. E a un certo punto, invece, mi ricevo una telefonata, appunto al telefono, perché non c'è la cellulare, e mi dico, senti, allora hai vinto il primo premio al Festival di Toino, hai letto il manifesto, ha scritto un articolo pazzesco sui tuoi video, di qua, di là, dico, no, non ho letto il manifesto, e beh, vieni, salta sul treno, domani c'è la premiazione, hai vinto 5 milioni di lire per la tua posta in produzione. Boom! E da lì è nata un po' tutta la mia avventura. Hai detto, in effetti non avevo e non ho avuto fretta, no, per esordire poi al cinema, ti sei preso i tuoi tempi, hai fatto, forse sei il regista più, che si è applicato agli stili più etereogeni d'Italia, e hai detto anche con ironia, so che i grandi artisti fanno sempre lo stesso film, forse non sono un grande artista. Sì, perché è un classico, no, che si dice che i registi fanno sempre lo stesso film, no, perché individui, invece, forse, ma sai, la curiosità, la passione di sperimentare, di vedere, what if, diciamo così, è un po' quello, il mio stesso film è quello, what if, e la riscrittura del passato, perché questo vai a vedere la prima linea, paz, il trasloco, e poi però tante deviazioni, tante deviazioni, sì, effettivamente incomprensibili. Quando hai conosciuto Pier Vittorio Tondelli, di lui dicevano non è un grande scrittore, no? La stessa sottovalutazione ha abbracciato per anni, e in qualche caso ancora abbraccia Fricantoni, Vischiantos, forse per una certa tendenza, che non so se sia avarizia sterile o semplicemente inconsapevolezza, di saper cogliere, parlo dell'Italia a questo punto, ovviamente abbiamo spostato la scena dall'America qui, il talento grezzo su cui puntare. potrebbe anche darsi filologicamente che la stessa cosa sia toccata a te, che tu forse non abbia avuto un'occasione negli anni in cui l'avresti potuto avere prima del previsto. Sì, sì, penso di sì, penso di sì, nel senso che non si sono mai messi in fila, diciamo così, le stelle nel modo giusto, è sempre stato qualcosa che ha deviato il percorso. Pensi di aver avuto di meno di quanto non avresti meritato? Ne sono certo. Ne sei certo. Senti, hai recitato, forse uno dei pochissimi insieme a Daniele Lucchetti, registi italiani, per Nanni Moretti, in una scena iconica, proprio l'altro giorno su quello stesso divano era seduto Luca Guadagnino che ci diceva quanto avesse mal giudicato aprile di Nanni Moretti in tempo reale, quando uscì, adesso potrei sbagliarmi, dico 98, ma potrei sbagliarmi, di come lo abbia rivisto recentemente, gli si è sembrato un grandissimo film, uno dei più belli di Moretti. In aprile tu a Nanni Moretti, che ti fa fare un provino per questo film, che ti chiama per fare un provino e quindi vorrei anche un piccolo racconto del provino, mostri un metro. Intanto io e Nanni eravamo amici all'epoca, dico eravamo perché adesso non ci frequentiamo più, ma non è che abbiamo mai litigato, insomma sono quelle cose che nella vita succedono, sono dei momenti in cui ti vedi tutti i giorni e poi piano piano non ti vedi più, quindi non è che ho regrezza. Però in quel momento eravamo molto amici e lui mi aveva un po' preso sotto la sua ala, nel senso che gli era piaciuto molto il trasloco e quindi quando ero venuto a Roma mi aveva aiutato in tante maniere, insomma, anche aiutandomi con Angelo Barragalla a montare il mio primo film, che ha avuto una storia poi incredibile. E quindi eravamo molti amici e io ci avevo una fissa in quel periodo là, delle biografie dei registi, sapevo tutte le età, a quale età avevano fatto il primo film, perché io non avevo ancora fatto il mio primo film e quindi ero ossessionato da questa cosa che avevo già 34 anni e non avevo ancora fatto il primo film e per cui sapevo, non so, che Coppola ha fatto Il Padrino a 28 anni, che Bertolucci aveva fatto, come sai, che a 21, che… ma li sapevo tutti, adesso ovviamente ho perso il conto, ma sapevo tutti, avevo la fissa delle date, questo non vuol dire che ha ispirato la scena, però parlavo sempre del tempo, eccetera, ero ossessionato a sto fatto che non facevo il primo film e avevo già 34 anni. Eravamo molto amici con Nanni e mi chiama e dice guarda ti voglio fare un provino e il provino era, intanto lui girava i provini in pellicola, cioè era una cosa pazzesca lì alla Saker e in più e ti faceva improvvisare, dovevi fare delle cose, parlare, cioè erano provini atipici, non ti dava ovviamente la sceneggiatura perché forse non l'aveva nemmeno lui in mano, dovevi fare delle cose, dire delle cose, eccetera, eccetera. Dopo tanto tempo mi chiama e mi dice che mi ha preso. E giriamo la prima scena in cui io dovevo fare appunto il classico giovane regista, all'epoca avevo i capelli lunghissimi sopra le spalle, eccetera, e praticamente lui nel film nasce Pietro, per cui io devo andare a trovarlo in ospedale, che c'è Angerson, Pietro Moretti, il figlio di Nanni. Il figlio di Nanni e dovevo andarlo a trovare in ospedale e dire complimenti Nanni, veramente che momento felice per te. E per Silvia Noro, la madre di Pietro. E ne approfitto per dire, senti, comunque poi ci sentiamo per quella cosa, per quel progetto, sì sì sì, poi ci sentiamo e mi liquida, no? Che comunque anche alla celebrazione della nasce nel figlio in ospedale andandola a trovare, mi fa fare con la parte di quello che comunque vuol parlare del suo film, no? Del film che vorrebbe fare. E quindi mi liquida. E io avevo i capelli lunghi. E per me il film era finito lì. Dopodiché mi richiama tre mesi dopo e mi dice, guarda, allora vieni che facciamo anche una scena della festa del mio compleanno dove facciamo un gioco, eccetera. Io vado lì e mi ero tagliato un po' i capelli, ma non… Lui c'era un problema di continuità comunque. C'era un problema di continuità. Lui si incazza. Ma ti sei tagliato i capelli? Ma chi ti ha detto? Ma io non so nemmeno che dovevo tornare. Cioè, ma io ero intimiditissimo perché mi aveva fatto una cazziata mostruosa perché mi ero tagliato i capelli. Poi di poco, non di tanto, no? E niente, poi abbiamo fatto questa scena del metro e l'abbiamo ripetuta una quantità di volte incredibile, 70 volte. Tu hai un metro in mano, gli dici, questi sono 100 centimetri. Quanti anni compi in anni? E lui prende la fettuccia. Esatto. Ne compie 43. Ne compie 43. Quindi tu hai… Esatto. E tolgo 43. Quanti anni pensi di vivere? 80. E quindi gliene tolgo… Altri 20. 20. E gli dico, vedi… Questo è rimasto. Questo è quello che rimane. Datti da fare. Questa scena è diventata super calda, super calda. E a me una volta mi ha fermato un signore in un aeroporto. Mi ha detto, ma lei, lei è… Lei è… Io dico, ma siccome c'era Isabella, ti dico… Isabella, forse… No, 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 voglio parlare con lei. Dico io, ma… Mi dice, ma lei è nel film di Nani Moretti, lei è quello della scena del metro. Io la devo… Io ho cambiato vita dopo aver visto quella scena. Praticamente era uno che faceva finanza a Milano, eccetera. Ha visto il film, ha mollato tutto, si è comperato dei terreni in campagna, aveva cominciato a produrre olio, marmellate. Quella roba lì era molto felice, quella scena lì aveva cambiato la vita. Tu che ti aspetti dal tuo metro? Il mio metro intanto è molto corto adesso, calcolando gli 80 è molto molto corto. Ma sai cosa mi aspetto dal mio metro? Ti potrei dire banalmente di poter fare un bel… di avere ancora lo spazio per fare un paio di bei film. Ti potrei dire banalmente di vedere riconosciuto un po' di più il mio lavoro. Ma in realtà quello che mi aspetto è di trovare un equilibrio in questa inquietudine che mi tormenta da sempre. All'abbazia di Naro, tra Montefeltro e la Romagna, in uno di quei luoghi d'Italia in cui le regioni si toccano e si sfiorano, tu sposi Isabella Ferrari 22 anni fa. Allora cosa significa stare insieme per 22 anni prima di tutto? Guarda, io quando mi sono trasferito a casa di Isabella, che ho lasciato il mio appartamento da gatto randaggio di Trastevere e sono nata Isabella, l'appartamento era suo quindi non pagava l'affitto, quindi per me era già un vantaggio economico. Ho detto vabbè, quanto potrà durare? Sei mesi. Me la vivo e poi tra sei mesi ritorno a Trastevere. Invece è durata 22 anni, è stata una sorpresa. È stata una sorpresa, cosa significa? Significa ovviamente di crisi ne abbiamo vissute tantissime, molto forti, anche dolorose, eccetera, eccetera. Non è che 22 anni sono filati lisci come l'olio, sarebbe impossibile. Però abbiamo saputo andare avanti, non so neanche io il motivo, il come. È stato un reinventarsi tutti i giorni, la vita insieme. È stata una sorpresa, lo è tuttora. Lei dice, ci siamo sposati per sensualità. Il giorno del battesimo di Giovanni, uno dei vostri due figli, ci siamo sposati senza dirlo a nessuno. Sua madre si infuriò talmente tanto da non venire neanche al pranzo e la sera accade una scena mentre siete a letto insieme che secondo me è la sintesi perfetta di questi 22 anni. Vi guardate le mani, guardate queste fedi, vi sembrano troppo pesanti, forse troppo impegnative, forse un orpello di cui non avete bisogno, ve le togliete dal dito. È esattamente quello che non farebbe nessun neosposo d'Italia. Avevamo tutte e due male alle dita e in più queste mani con queste fedi, a me sembrava troppo pesante. Era una mano che non era leggera, che mi appesantiva, sì, me la sono tolta e non la sono più rimessa. Bella l'idea di togliersi qualcosa per poi confermare tutto per due decenni. 22 anni mi sembrano un tempo lunghissimo, eppure ti assicuro è scorso senza praticamente rendercene conto, senza un programma, senza un obiettivo, cioè vivendo la giornata. Maria Golino, una vostra grande amica, dice che lei non ha mai creduto alle coppie che durano e ha riso come ragione fondante del rapporto, ha riso intendo dire a ridere. Invece ho l'impressione che voi abbiate riso molto e che questo sia stato un possibile segreto della durata. Io ho fatto ridere tanto Isabella, sì, e io con lei mi sono divertito. Isabella ha un approccio alla vita un po' più drammatico di me, è un po' più concreta, ha un senso della realtà molto forte, perché io sono un po' più, meno cosciente un po' di quello che vivo, per cui ci siamo divertiti anche, sì, ci siamo anche divertiti. Abbiamo riso molto. Avete riso molto. Anche con Valeria. Anche con Valeria. Sì. E hai detto per quasi tutti, sempre facendo ricorso all'ironia che ti si riconosce, per tutti o quasi sono soltanto il marito di Isabella Ferrari? È cambiata questa sensazione? No, continuo a essere il marito di Isabella Ferrari, anche oggi sono andato al mercato e sono stato fermato da una signora, sono andato a comprare la frutta e la verdura e mi ha detto ma lei è un attore, ha una faccia conosciuta, dico no, non faccio un attore, ma cosa fa, cosa fa? Faccio il regista. No, ma ho capito chi è lei, lei è il marito di Isabella Ferrari, ecco appunto. Senti, tra il tuo secondo film, dopo Tell Paura, nel 2002, Paz e La Vito Scena, il tuo quinto film, passano, credo adesso vado a spanne, 12 anni, ok? Il film ha lo stesso budget, 500 milioni di lire, quindi un milione di euro di oggi, euro più o meno. Hai detto, non so se ravvisare nel dato un eccesso di coerenza o una fregatura. È un eccesso di coerenza, adesso ne ho la certezza. No, nel senso che quando ti capitano quelle occasioni, no, come fare la biografia di Aldo Nove, di un poeta, una biografia assolutamente lisergica, però molto vera, molto drammatica, molto fonda, però di grande impatto poetico. Il mio agente, che era allora, Antonangeli, mi ha lasciato perché ho fatto questo film. Mi ricordo che Roberto Cicuto, a cui avevo chiesto una mano in quanto sotto luce, mi fece una telefonata accorata, dicendo ti prego non fare questo film. Praticamente tutte le persone conoscevo e mi dicevano non fare questo film, però per me era un'occasione di esprimermi su un terreno visivo molto bello e quindi l'ho fatto ed effettivamente non me ne è venuta molto, avrei dovuto, da un certo punto di vista, ascoltare i consigli di chi mi diceva di non farlo, perché finché non è mai uscito, che non ha mai trovato una distribuzione, che è andato a Venezia in concorso a Orizzonti, ma non è stato proprio, non ha visto la luce, non l'ha visto nessuno, non l'hanno visto solo gli spettatori di Venezia e basta. Quindi resta da un lato un'esperienza visivamente molto bella per me, ma sono di quelle cose che non dovresti fare, se pensi a un percorso di carriera. Tu hai fatto tante cose anche per la televisione, invece di grande successo, penso agli stretto di polizia, però in alcuni casi, penso alla prima linea, che secondo me era un bellissimo film, ma non sei stato capito a volte né dal pubblico né da chi doveva finanziare, ciò nonostante sei andato avanti. Al di là dell'eccesso di coerenza, c'è proprio un, uso una parola che detesto, un karma nelle tue avventure, cioè sono sempre controvento, sono sempre in direzione ostinata e contraria. Guarda, quando mi hai chiesto che cosa ti aspetti dal metro, da quello che ti è rimasto, è un po' capire sto karma, è quello che dicevo, trovare un equilibrio e capire che cosa succede, perché tutte le volte succede qualcosa che non… la prima linea per me era un film necessario, fatto 30 anni dopo gli eventi che raccontavano, quindi era il primo film che si faceva in Italia dal punto di vista terroristico, contemporaneamente in Germania giravano Rotterme Fraction e in Francia giravano Carlos. Capolavoro di Assayat. Capolavoro di Assayat, contemporaneamente senza saperlo, tre film che nascono nello stesso momento su quell'argomento là, Carlos distribuito in tutto il mondo eccetera, Raph portato dalla Germania all'Oscar, il mio film non è potuto uscire per le polemiche roventi… Sono dovuto andare a Toronto a fare la prima mondiale perché a Venezia non ci potevano prendere, Muller mi disse non ti posso prendere proprio, non ho possibilità, quindi siamo andati a Toronto a settembre, siamo usciti a novembre, tutti che avevano scritto di tutto e di più sul film contro da Repubblica al Corriere a solo 24 ore, proprio come se tutti i giornalisti si fossero messi contro e se io, ma anche Andrea e anche i Dardenne che avevano comprato il film erano, si è rimasti tutti sballorditi, ma perché? Io lì ho detto a Isabella per me è finita, non ce la farò più. Non ce la farò più? No no, è diverso. Non mi riusciranno a fare più un film? Non ce la farò più, infatti non ce l'ho più fatta, cioè da un certo punto di vista quella film lì per me ha segnato, era l'ultima occasione per me per arrivare a un pubblico e ci poteva arrivare quel film lì perché aveva tutto per arrivare, ma io quando è successo tutto questo casino mi dici, Isabella, io adesso devo fare navigazione, farò? Beh è avuto torto. In realtà è avuto torto, hai fatto un film stravisto per Netflix, buono come l'ospitato, hai fatto roba di Mussolini. Sì, poi ho avuto una seconda vita su Netflix, effettivamente, però hai capito qualcosa che voglio dire, quella roba lì non entra più. Sarà che forse chi decide, chi valuta… Io non sono mai stato candidato a un David, né con la prima linea, né con l'ospitato, ne con pazza, né con la vita scena, figurati, o amatemi, niente. Io non… mai, mai, mai. Sai cosa mi dovrebbe dire? Quello che tu pensi tutte le volte che vedi Pretty Woman e Julia Roberts entra nel negozio e non le danno i vestiti, tu pensi, stronze, dateli i vestiti, io penso, date un David a quest'uomo. No, no, non me ne frega niente dei David, era… non è quello il punto che mi cambia la vita, sia chiaro, cioè non è il… era per dire appunto, era per rispondere alla tua domanda della non essere riconosciuto, no? E allora uno dice, come vieni riconosciuto? Boh, non lo so, con un David, o con un film che riesce a uscire in sale in una maniera decente e con un minimo di voglia di farlo uscire. E ti dispiace? Qualche volta mi è dispiaciuto, tanto. Oramai me ne sono fatto una ragione e come la volpe con l'uva dice, sti cazzi. Se dovessi definire te stesso nell'ambito di un lavoro così etereogeneo, così sfaccettato e così anche curioso e bramoso di esplorare molti generi e molti ambiti della condizione umana, che cosa diresti di te stesso? Ma che non… intanto è una riflessione che faccio su me stesso spesso, perché uno cerca di capire chi è, no? Chi sono? Boh, non lo so. E il tuo lavoro ti aiuta anche a definirti, non è che fai il tuo lavoro solo per quello, però è anche una ricerca continua della propria definizione. e non riesco a trovare, almeno io non vedo tanto un percorso lineare o comunque che si instaura in un mondo, diciamo così, che ha una traccia orizzontale e una traccia verticale. Mi ritrovo di più in un percorso a salti, a balzelli, che costruiscono un disegno che puoi vedere forse dall'alto, che io mi sto sforzando di vedere dall'alto, ma che se lo vedi in diciamo in prospettiva normale, diciamo così, costruito sulle assi cartesiane, forse fai fatica a individuarlo. Mentre invece forse con una visione più tridimensionale, forse si riesce a individuare un percorso. Sei d'accordo con Paolo Sorrentino che dice, che sostiene che sia meglio non sapere troppo di se stessi? Allora, sono d'accordo con Paolo, ma io parto dalla cosa prossima, non riesco a capire di me stesso, non riesco a sapere, vorrei sapere di me stesso e non riesco. Quindi la pensiamo uguale, ma da tutti i punti di vista diversi. Sei sempre stato lontano dagli analisti in vita tua? Ci ho provato, ci ho provato con una persona bravissima che mi ha fatto subito delle domande molto forti, che mi hanno messo molto in crisi e ho detto no, mi tengo le mie ferite, le soppie, le mie lacerazioni e uso la mia vita per, appunto, conviverci. Dicono di te è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e Tender Stories. Io sono Malcom Pagani, la cura editoriale è di Francesca Milano, la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Andrea Girelli, le registrazioni in presa diretta sono di Lucrezia Marcelli, il producer è Alex Peverengo.